Beh, la regà, rieccoci qua su Call of Duty Advanced Warfare Sto facendo il gun game, o per meglio dire il gioco delle armi Che è stato implementato da poco, mi scuso già per il lag che ci sarà perché sto registrando Perché ho la scheda grafica che la dovrei cambiare e sarà cambiata a breve Allora, questo era il mio gioco preferito in Modern Warfare 3 E per fortuna l'hanno rimesso su Advanced Warfare Che è fichissimo, anche se hanno messo solo delle armi di schifo Delle armi che fanno veramente cagare l'anima E quindi è abbastanza una merda Però, l'importante è che c'è la modalità Perché più che altro penso si possa Ancora non si possono fare le partite private Però quando si potranno fare le partite private con il gun game Potranno moddare, mentre le armi che ti pare a te E che sarà veramente una fichata, credo Tanto abbiamo preso un approfiggionamento a San Valentinoso No, ragazzi Allora Bravo, guarda là Ok, bravissimo Allora Con la solita cortellata ti fa retrocedere il nemico Oppure con lo schianto boost In quanto Advanced Warfare ha implementato lo schianto boost Come metodo di kill E quindi non essendo una kill fatta con l'arma Ti fa retrocedere Logicamente il suicidio ti fa retrocedere E non c'è nient'altro da dire E si sbloccano un sacco di accessori per le armi Per tutte le armi In questa modalità Allora Allora Le armi Allora si inizia con una mitraglietta Che è la SM1 Poi ci stanno svariate armi Cioè è normale come non gun game È normale Ci stanno pure svariati i coglioni Le armi che ho di più sono quelle a raffica Tipo questa Che è la RX 660 Io non le so proprio usate Cioè è qualcosa di assurdo Perché io sono un mitragliettista Proprio termine tecnico Appena coniato da me Però vedi sono proprio una picca Cioè non riesco nemmeno a prenderli nel mirino Perché sparando col mouse Verrei tutti Che ti Posso fare? Seguirli Oh ecco Vedi vedi mi ha dato la cortellata e ora retrocedo Perché è mio merito Però almeno sono tornato ad un'arma automatica E mi piace di più Però devo comunque riusare questa E la tecnica migliore E faccio una kill Così di età culo Che andava avanti di arma Stanno in totale 25 armi L'ultima è la balestra Poi mi pare fosse pure Una delle armi che c'era in Modern Warfare 3 Non ricordo malissimo Regà le armi a tre colpi che portano No 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 retrocedo così Ah no mi ha ucciso Mi ha ucciso Grande che mai ucciso Così non retrocedo Uh vedi questa è una cosiddetta kill a culo Bravi regà Seguite l'esempio della kill a culo E non sbagliate mai Vedi vedi le armi che sparano tre colpi a volta Ho cinque Questa ne spara cinque Però comunque è la stessa merda E mori Ma mortacci tua Ti l'ho data io la cortellata Vabbè Questo è È il LAC LAC Voce da gallina Ok User entered your channel Oh sto registrando Ma no è mo Chi tu sei Ehi Oh ragazzi C'è star Rambo Che è entrato nel TS Che logicamente io mi sono dimenticato di sconnette per registrare E niente comunque questo è il gun game Adesso vediamo di verde perchè tanto ho fatto schifo Ecco Dove sei vienisco? Come preferisci No comunque penso sia la sessione al completo È un amico del Void Clan È un mio Clan Clan amico Mi hanno ucciso con la cortellata intanto Per dire cazzate E me la sono un po' meritata Oh No Ragazzi Oh 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 ohl Oh oh ohcé morto Ok c'ho il pompa Comunque sto indietrissimo rispetto agli altri tipo 10 armi dietro però vabbè c'è la pompa non mi disturbare i video e poi i miei fan mi dicono eh dice cose scurrili oddio e mori pezzo de merda pezzo de nerdo ho detto rega giuro dai sto dentro è bravo fatti ucciderà un bo da me no per certo ti prendo di spezz 2 rambo vabbè noi dobbiamo fare i maghedge perchè siamo ahahah io oggi metto a vedere che il gioco è sempre regolare scendi in battaglia dove sei dove sei dove sei rambo dalle cortellate a tutti tranne che a me cosi almeno tu chi sei? dov'è questo? chi è? eh non vedo oh cazzo questo sei tu uccidimi no ecco di fronte stavo ma non te vedo pazz non te vedo ma non vedo niente ormai sono morto tre volte già e non dile che è un casino successo allora questo è il bello dei video che entra la gente al random e che inizia a parlare più concentratissimo se fai il video della vita quello da 100 milioni di visualizzazioni e boom anche lo rovinano così chi è questo che sta reddando? una volta che stavo cercando di fare un video serio spiegavo com'era il gun game nuova versione eh e boom mi entrano nel video l'unico video serio ora è andata a tra luci e vino ho ucciso rambo costo ecco ecco oh raga sono arrivato tipo centosessantesimo io su 8 e comunque guarda raga ho fatto un punteggio 15-26 però diciamo è stato pure dovuto all'interruzione dei rambo cost e comunque niente spero che il video vi sia piaciuto bellissimo vi invito a lasciare un pollicione in su a mandarmi 500 euro sul conto corrente dai lì per mio dai lì per mio si e niente e comunque void clan spacca perchè siamo un clan dei cazzari e ci piace giocare così l'importante non è vincere l'importante è partecipare ricordatelo sempre ragazzi e divertirsi e divertirsi e questa è la perla di saggezza del nostro rambo cost e vi mando un bacione a tutti un saluto a casa e date un bacio alle vostre ragazze da parte mia voi ragazze date un bacio alle vostre ragazze da parte mia e ci vediamo al prossimo video spero che non vi rompa troppo le palle vedete sto video e comunque fate iscrivete tanta gente tipo chiamate vostra zia vostra nonna oh fatti fatti un canale youtube così ti iscrivi al canale di Gianmarco che comunque me lo merito in quanto mi impegno e più che altro se fate iscrivere i vostri parenti è figo no? sarei l'unico youtuber che ci ha iscritti tutti i zii i nonni i cugini mi ha capito? youtube era albero genealogico e vi saluto che sta iniziando un'altra partita e chiudo qui il video un bacio muaaaaa